Se, e dico se, ci fossero delle differenze tra cervello delle persone sane, quelle che si comportano bene, e psicopatici criminali, voi dove aspettereste di trovarle queste differenze? Beh, nella parte frontale. E infatti, guardate, questo su un'ampia casistica, il blu, questi sono disegni schematici, però per orientarvi, qui c'è il naso dell'individuo, qui è visto da destra, qui è visto da sinistra, qui c'è il naso dell'individuo, questa è la parte centrale del cervello, il cervello aperto così, questo è sempre il naso dell'individuo. Vedete dove è il blu? Il blu sta a indicare che c'è una differenza significativa, una riduzione significativa della densità della materia grigia, quindi delle cellule nervose, nei soggetti psicopatici rispetto ai controlli sani. E vedete che la differenza sostanzialmente è qui, nella corteccia prefrontale. quella parte del cervello che tutti noi abbiamo ben funzionante, ma che anche in noi, quando diventiamo aggressivi, questo è uno studio che noi facciamo molti anni fa, fu il primo studio a dimostrare, che quando noi diventiamo aggressivi, perfino a livello immaginifico, se io vi metto sempre in una di queste macchine e vi faccio, vi induco a diventare aggressivi, cioè voi pensate di diventare aggressivi, dovete aggredire una persona che nell'esperimento stava infastidendo la vostra mamma, ebbene, il momento in cui pensate questa cosa, diventate aggressivi, pur a livello immaginifico, pensate alla potenza della mente, vedete in questo cartoon disegnato, la copertina del giornale, questi sono i dati scientifici, vedete il blu sta a indicare che quella parte del cervello si spenge, cioè come se ci fosse uno shutdown funzionale, come se noi perdessimo il lume della ragione. Quante volte si dice ho perso il lume della ragione, ebbene, in un certo senso è vero, la nostra corteccia prefrontale parte, questa cosiddetta orbita frontale, che è proprio quella del controllo del comportamento, dell'impulso, dell'aggressività, si spenge per poter diventare aggressivi, quindi vedete come le cose sono tra di loro collegate.